Biblioteca Comunale di Bagnara Calabra, oggi è la giornata mondiale del libro e sembra fatta a caso perché qui proprio oggi in Biblioteca si discute di un'importante iniziativa che si terrà a maggio. Sì, il gruppo è dell'Associazione Insieme per Riaprire la Città, insieme alla Biblioteca Comunale e ad altri amici ed è da un mesetto che stiamo organizzando il ritorno di Librandosi in Volo. Questa iniziativa è partita per la prima volta nel 2008 e ritorna dopo parecchi anni. Eravamo partiti con l'iniziativa ministeriale Ottobre Piovono Libri, ormai è diventato il maggio dei libri e quindi avremo un mese di incontri e appuntamenti, di letture, di incontri con gli autori, di laboratori per grandi e piccini. Quindi siamo contenti, insomma, di presentare, di festeggiare oggi il ritorno di questa iniziativa importante. Ecco, assolutamente sì, Roberta Macri, anche lei collaborerà a questa iniziativa. Possiamo dire, senza entrare nello specifico degli appuntamenti, si inizierà il 7 maggio, insomma si andrà avanti per tutto il mese di maggio ed anche qualcosa, qualche iniziativa a giugno. Sì, non anticipiamo niente perché è bello anche l'effetto sorpresa. È positivo però sottolineare che l'associazione è entrata in sinergia con le altre forze territoriali. Quindi se qualcuno fa qualcosa si può fare molto. Credo che questo sia l'aspetto più importante. Il lavoro comune e l'unione è proprio creata dal libro e infatti non a caso ci troviamo qui in biblioteca che è la casa del libro. Però il libro deve arrivare poi alle persone per creare uno scambio. Per cui il senso di queste iniziative vuole proprio questo, portare il libro alla gente, renderlo vicino alla gente. E poi favorire la partecipazione a un ventaglio di iniziative che tocca la lettura, la lettura animata, i laboratori per bambini, le proiezioni di film. Quindi il passaggio importante anche dal libro al film. Insomma si è cercato di coinvolgere tutti i target d'età per dare un'offerta il più ampio possibile. Ecco quello che possiamo dire è che ai primi di maggio entreremo nel dettaglio presentando proprio il programma definitivo. Sì sì sicuramente sarà il primo appuntamento, partiamo con un laboratorio per bambini, partiremo il 7 e concluderemo il 28, il 28 maggio. Sono una decina di appuntamenti per cui insomma state un po' attenti perché presto avremo il programma e stiamo arrivando.